Per Novara, problemi di ricezione si sanno però Monza e la palla carezzata da Caterina Lanzovic Poi ora la tiene su, un parocchiale va da Lanzovic, il guanale si confonda Un grande imbattuto alla ricezione nel campo di Monza, pulisce tutto l'idea Lanzovic Un grande imbattuto alla ricezione nel campo di Monza, pulisce tutto l'idea Lanzovic